ciao aiuto guardano chi potrà mai essere no no ai capelli aiuto io non ci vedo nulla manco io si vedete? no c'è la mano tua ciao belli i capelli hai lo so c'è il vento che fate di bello? mille persone che fate di bello? cosa state facendo oggi con l'altro? tante maggiori tante perché? grazie che fate di bello? rispondete un po' per favore per favore noi ci stiamo annoiando in giro, non sappiamo cosa fare siamo seduti su un prato ha i capelli Rinaldi Mattia mi scrive saluta Viola ciao ti saluta grazie no allora alzare il telefono un po' storto però vabbè no raga non parlo spagnolo magari mi date consigli su come fare le unghie così studio scienze umane io per il finale adesso ho studiato diritto infatti ho il cervello li saluto io ciao ciao non ci vedo niente ragazzi c'è tutto vuole due viola ragazzi allora io e Cristiano adesso abbiamo questo mistero io e Cristiano siamo soltanto amici aia anche perché lui è piccolo potrei essere la sorella tipo tipo che scuola fai faccio il terzo superiore dell'alberghiero ah sono andato in sole è bello grazie è tornato il sole è stato il mezzo del piede raga Cristiano l'ho appena detto anni mi sa che non li posso dire perché l'ultima volta mi hanno bloccato quindi meglio che non le dico ma perché vai in ritardo sul telefono mio qualcuno che sta ciao Cristiana qualcuno che sta affrascati saluto dall'argentina saluto dall'argentina hola cosa è hola ciao 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 mi puoi salutare mi chiamo Elisa ciao Elisa ciao ciao bianca ciao sofia 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 mi chiamo cara vai mi chiamo salutare la mia cara amica viola mi dèi ma guarda quella cassandra non ti saluterò viola mi dèi perché è proprio qui incredibile se è troppo sole i capelli vogliamo te li taglio tutti no no la rasiamo no veramente senti cosa andavo te hai chiesto se puoi salutare quella mi devi si si proprio ma no words ragazzi no words non ho capito cara no manco sinceramente tutto bene te come stai? no viola io sono una tua fan io non so dove mettere questo perché storti mi danno veramente fanno anche se sono una tua fan giuda se casca i ridi il cucchiaio dei toghi te lo sogna del fiero che davvero grazie ciao salvo ciao salvo grillo come stai? io dopo quella volta non lo so più va hai detto che stai antipati comunque prima stavo dicendo no adesso faccio un tiktok dove lo copio quindi dopo lo farò sicuramente che bello sei andato via il sole come si chiama le tue amiche come si chiama? allora lei è mia sorella e si chiama viola lei è una mia amica e si chiama viola facile troppe violi voi che cosa state facendo? io sento passi questa cosa mi preoccupa è tua sorella che cammina mi chiamo leandra c'è leandra leandra ho sbagliato ho da leandra io sono simpaticissimo dirglielo hai detto che è simpaticissimo? mh non è vero sei simpaticissimo dipende chi è simpaticissimo? salvo io mi sono lato i capelli più grandi è lo chitti come come è lo chitti? sta piovendo ma come sta piovendo? ho sentito una goccia è bella viola non lo posso dire ragazzi perché sennò mi bloccano mi bloccano è pure dalla Francia cocù cocù dei fans mi saluti? ciao Fabio giura quando vieni a Milano? dipende in Milano tra un po' vero a Milano ciao Carlotta ciao Carlotta e riecco il nostro amico sole Giulia giuro che quanto è mamma mia ti taglio tutti i capelli comunque venerdì devo andare dal palucchiare ragazzi mi devo tagliare i capelli so che non vi interessa ma a me è una cosa veramente brutta regà due viole non fanno una rosa Giulia giri in centro bella battuta simpaticissima dai non è vero abbiamo pure i comici giri in centro con la smart tutta rosa con istras finta santa con le e poi restiamo a fare la canzone come si chiama la canzone? come si chiama la canzone? Giulia anzi può dire viola che ne pensi di chi ti mette like alle storie? Matteo ciao Giulio no Matteo guarda io non penso proprio niente di chi ti mette like alle storie te lo dico ma lo conosci? è il boss ciao Giulio ciao Giulio ciao Giulio ciao Giulio ciao ciao dalla Polonia ciao dove sei di Napoli? no siamo di Roma però cioè siamo affrascati vai i capelli ma qua va freddo andiamo nell'altra parte vabbè ragazzi io vi voglio bene che giro tu amica Viola? pure sponsor ti faccio ah Viola mi dai con due trattini passi c'è un bel giorno di entrare una volta per lavoro ho tanto il bloccato sì 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 ok Giulia quando esce il vlog del Foretalico ah è vero fosti il vlog del Foretalico comunque a fine scuola dobbiamo organizzare qualcosa con Flavio vedo l'ora puoi masticare a bocca chiusa per favore grazie ok no Giulio comunque stavo scherzando va bene ancora delle persone sì grazie aspetta ah no me ne ho mmm trae 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 vabbè scusa non ti arrabbiare però non parlo più del Foretalico va bene perché se no non habla spagnola mi saluti per favore mi chiamo Rozzana oh che figo questo nome ciao Valerio ragazzi io e Cristiano lo ripeto siamo soltanto amici stavo a vedere fuori in merce vanno qua come si dice là siamo ancora io onestamente io gossip ma è una sorella si sta lì vieni fatti vedere ciao ecco ma poi si è andato un telefono a Lorenzo noi le chiamo non ho letto ho preso un attimo il telefono di Lorenzo mi chiamo Mancini come sta va tutto bene te come va dove state affrascati non c'è nessuno in giro ci stiamo annoiando molto però ci siete voi così almeno te stavo diciamo io viola e viola però so io viola ciao sono sorrita trae trae quanti anni avete differenze di cristiano raga tanti perché lui quanti lui di che anno è cristiano 2009 io mi sono ammazzata queste per me tu dove sai chi lo sa può scrivere di che anno è cristiano ciao ciao ma da c'è qua mano che non ha lei è viola ti vogliono vieni qui chi lei è mia sorella adesso cadiamo si se lui ha 14 anni 15 abbiamo 3 anni in differenza come lei ma come no no è impossibile ha 14 anni chi ha 14 anni è un mamma mia cristiano no ciao sofia è 0 9 ne deve fare 15 ah ok allora ci abbiamo 3 anni 2 anni vabbè 2 anni di differenza comunque siete simpatici mi sto divertendo a fare la diretta la vuole ne farò più spesso giro e ho 2 anni di differenza con cristiano e infatti la penso come come si chiama che cristiano che cristiano ti vuol per te viola no 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 ragazzi ci stanno già muovi i gossip c'è l'onora Matteo non parlo è stata la cugina di Cassandra basta fare questo direttore vabbè ragazzi noi andiamo perché siamo veramente scomode siamo assolutamente mi voglio bene ciao 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 ciao